Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video ragazzi come creare un video per TikTok su Adobe Premiere Pro facilissimo in base alla risoluzione da come lo vedete sul telefono quindi semplicissimo prima di fare questa cosa ragazzi vi consiglio di iscrivervi al canale, di trovare la campanina e lasciare un like se questo video vi è stato utilissimo ora per impostare la sequenza della ridimensione di questo quadrato in questo tipo di rettangolo verticale dovete prima caricare un file multimediale quindi un video io prendo questo video lo metto qua eccolo qui è un video così che ho fatto ora andiamo sulla sequenza impostazioni sequenza io ho già messo dimensioni fotogramma quindi voi fate come ho messo io 1080 qui 1920 qui verticale 916 ok fate ok una volta realizzato fate due click sul video cercate di ridimensionarlo in base al rettangolo che avete creato la sequenza 1080 per 1920 io ho già il video così perché ne avevo già fatto uno quindi è la stessa cosa se invece a voi il video è proprio così a rettangolo fatele dimensionate fate così e fate una bella riposizionatelo qua perfetto ed eccolo qui sul mio profilo tiktok ragazzi se clicco qua sopra si vede proprio così se invece lo guardate da telefono si vede proprio si vede tutto lo schermo del telefono si vede perfettamente così rettangolare verticale così in base allo schermo del telefono ok una volta fatto andiamo ad esportarlo quindi esporta match source questo qua h.264 rendering alla profondità massima usa massima qualità di rendering scendiamo fino a giù vbr2 qui mettete 8 qui mettete 8 e fate esporta una volta messo esporta uscirà il video eccolo qua io prima ho fatto un casino quindi il video questo qua è quello vecchio perché ho fatto un casino quindi se l'ho caricato su tiktok si vedeva anche questi bordi neri poi ho aggiustato un po' e adesso si vede così non fate casa questi bordi neri perché se lo carico su tiktok e lo guardate sul telefono si vede solo questo si vede senza questi bordi neri quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto ragazzi iscrivetevi al canale lasciate un like se vi è stato utile questo video lasciate un like e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao